Cari amici, Radio Maria si è diffusa in Italia e nei cinque continenti senza pubblicità e solo con la generosità dei suoi ascoltatori che amano la Madonna e hanno a cuore di portare il Vangelo in ogni parte del mondo. È un vero miracolo che la Madonna sta compiendo in un modo silenzioso toccando i cuori di innumerevoli persone. Cerchiamo anche noi di essere fra quelle anime nobili che aiutano la Madonna nel suo piano di salvezza perché la nostra risposta è fondamentale perché il mondo in cui viviamo abbia la pace. Un grazie di cuore a tutti quegli ascoltatori che si impegnano nel sostegno anche con offerte mensili perché questa grande opera di evangelizzazione possa andare avanti. Un ricordo particolare al Signore per gli ammalati, per le anime degli ascoltatori defunti e per tutti quelli che si ricordano di Radio Maria prima del loro ritorno alla casa del Padre. Assicuriamo a tutti il ricordo nella nostra preghiera. Regina di Radio Maria prega per noi.